Salve, benvenuti alla pasta con le fombole. Oggi ha cucinato il chef Alberto. Salve, grazie, benvenuti di rimanere vicino. Stai riuscendo un po' il baffetto di più? No, che sì, ma è un po' grande. Buon caldo, buon mio. Sì, ma quella è... Non pregami la staggirà. Prezzemolo. Sebbia. Prezzemolo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.